La filosofia non è solo in complicati tomi al limite della comprensibilità umana, il senso della vita, dell'esistenza e in tante riflessioni quotidiane bisogna dar loro un ordine e magari creare occasioni, situazioni come quelle del Filosofestival, l'originalissima iniziativa di Zikurat Edizioni and Lab e del suo direttore Marco Santarelli, giunta la seconda edizione tra giovedì 25 e sabato 27 marzo. La filosofia che quasi socraticamente torna a girare per la polis, la città di Teramo, in tutti i suoi angoli. Uno può scegliere dove andare, se seguire la conferenza la mattina di Carmen Consoli o il pomeriggio di un dibattito seriamente e solamente filosofico, insomma ci sono varie possibilità. Tanti gli eventi anche quest'anno, particolari come l'esclusiva intervista a Carmen Consoli, il giorno dopo il concerto organizzato dalla Big Match giovedì 25 al Teatro Comunale a alle ore 21 con la cantautrice catanese. 26 mattina la sala polifunzionale che diventerà anche un libricino che sarà diffuso dalla Zikurat Edizioni. Trasversalità nella filosofia del contenuto e nella modalità e quindi philosophy for children tra i bambini con Irene Merlini. Sia nel giovedì pomeriggio assieme agli insegnanti che nella mattina del venerdì alla Biblioteca Delphico insieme a alcune classi delle scuole elementari e delle scuole medie porteremo avanti questo tipo di sessioni. Sia nel giovedì pomeriggio assieme.